buongiorno a tutti siamo in compagnia di Matteo Manfrè classe 1999 attaccante benvenuto buongiorno a tutti allora un esperto della categoria tra Marina Ragusa ultima stagione nel Borgosesia e infine Asti come ti stai trovando in questa squadra abbastanza bene ho trovato un gruppo accogliente ci stiamo imparando a conoscere il campo stiamo imparando i nuovi quello che cerca il mister tutto sommato bene stiamo andando anche discretamente bene abbastanza bene ecco la preparazione com'è andata molto bene anche quella è stata un punto di incontro per capire i movimenti dei compagni in campo per iniziare a conoscerci e a trovare un po' di film tra di noi ecco già nelle ultime partite hai avuto modo di dimostrare la tua velocità il tuo dinamismo e la voglia di saltare l'avversario per arrivare in area sì diciamo che preferisco avere campo da attaccare incontro che è magari una delle prime caratteristiche ecco la squadra diciamo che in queste ultime partite sta facendo bene ieri ha pareggiato Abra e domenica invece incontra Sesti Levante come pensi possa andare la partita? stiamo trovando una quadra in tutte queste partite stiamo dimostrando di essere squadra possiamo fare meglio magari però stiamo vedendo molto bene quindi metteremo in campo come al solito quello che mettiamo ogni domenica e speriamo che vada bene perfetto Matteo ti ringraziamo per queste interviste e ti facciamolo in bocca al lupo per il campionato mi ringraziamo il nuovo grazie